Rivolgo un benvenuto ai nuovi maestri del lavoro che hanno ricevuto oggi la stella al merito e che dopo una vita di dedizione e impegno continuano a farsi testimoni di quell'etica civile che ha ispirato la loro vita professionale. Un saluto molto intenso, rinnovando un forzo sentimento di vicinanza alle famiglie dei lavoratori cui è stata consegnata la stella alla memoria. Di fronte alle morti sul lavoro o a causa del lavoro, lo ha ricordato poc'anzi il Ministro Calderone, di fronte a questi eventi le istituzioni della Repubblica a ogni livello sono chiamate al dovere di accrescere sempre più i livelli di sicurezza e di porre in essere tutte le azioni possibili al fine di ridurre i rischi e promuovere la cultura della prevenzione. La dignità del lavoro e la cura della vita devono prevalere su ogni altro interesse. Vorrei aggiungere quest'oggi che il valore e il rispetto della vita vanno riaffermati con determinazione in ogni ambito, in ogni circostanza, in ogni dimensione. Va ribadito con forza, in questo momento in cui sono in corso, i funerali di Giulio Ciacchettino.